Oristano hanno preso il via a Donigala gli interventi di manutenzione straordinaria d'urgenza delle strade comunali. L'assessorato ai lavori pubblici del comune di Oristano attraverso l'impresa Serci di Guspini sta intervenendo in via Sant'Antonio in Vico Cabras. L'intervento rientra in un progetto più ampio da 60.000 euro che prevede manutenzioni straordinarie d'urgenza in conseguenza di eventi imprevisti del corpo stradale e delle sue pertinenze, quali piccole riparazioni localizzate, rappezzi con conglomerato bituminoso, di ammaloramenti localizzati della pavimentazione, riparazioni e rifacimento di opere per lo scolo delle acque, riprizzino di tratti di pavimentazione bituminosa, spiegano il sindaco Andrea Luzzo e l'assessore Francesco Pinna. I lavori di via Sant'Antonio in Vico Cabras riguardano principalmente la fresatura del manto stradale e dei marciapiedi, di conglomerato bituminoso, il rifacimento del manto stradale e il conglomerato bituminoso per manto di usura, tappeto, per la carreggiata e il riposizionamento in quota di alcuni chiusini posizionati nella carreggiata stradale.